Il referendum è un istituto giuridico con cui si chiede direttamente al popolo di decidere in merito a una determinata questione. Il suo nonno è stato il plebiscito, anche se tra le due formule ci sono notevoli differenze. Quest'ultimo, che in origine era una istituzione politica della Repubblica Romana, poi abbandonato per secoli, è stato usato per la prima volta in epoca moderna da Napoleone. Nei primi mesi dell'anno 1800, infatti, il futuro imperatore dei francesi, dopo aver preso il potere con il colpo di stato del 18 Brumaio, 9 novembre 1799, ed essersi autonominato primo console, aveva varato assieme agli altri due consoli, Seys e Ducot, la cosiddetta Costituzione dell'anno 8. Pur essendo già la persona più potente della Francia, non si sentiva abbastanza sicuro e volle una sorta di consacrazione da parte del popolo. Sottopose così la Costituzione a una votazione popolare tramite appunto un plebiscito, anche se la parola sembra essere stata usata per la prima volta solo nel maggio 1805 dal ministro degli esteri, Thaleron. Prima si usava la formula liberi voti. L'esito fu favorevole a Napoleone in modo schiacciante, anche perché solo una piccola quota dei francesi aveva il diritto di votare. In realtà, per i votanti, non si trattava affatto di esprimere liberamente la propria volontà, quanto piuttosto di riconoscere e confermare, a cose fatte, l'iniziativa politica di chi era già il detentore del potere. Avendo trovato questa comoda strada per legittimare le sue decisioni più importanti, Napoleone vi ricorse ancora nel 1802, quando si trattò di confermare la sua trasformazione da primo console a console a vita, e poi ancora due anni dopo, quando volle apporre un sigillo popolare alla sua proclamazione a imperatore. Andarono però a votare solo poche centinaia di migliaia di persone, tutte appartenenti alla borghesia. Nel 1851 anche suo nipote Napoleone III usò lo strumento del plebiscito per dichiarare che la sua scalata al potere era voluta dai francesi. La verità era che le votazioni erano controllate dalla polizia e gli esiti non solo erano scontati, ma addirittura favorevoli in modo schiacciante alle proposte governative. Nella seconda metà dell'Ottocento il concetto di plebiscito cominciò a cambiare. Non venne più usato per una conferma posteriori di una scelta politica particolare, ma per suggellare un cambiamento importante nella storia di un popolo. Furono plebisciti quelli che sancirono l'annessione al regno di Piemonte della Lombardia, della Toscana e delle altre regioni dell'Italia centrale e infine del regno delle due Sicilie, portando alla nascita del Regno d'Italia il 17 marzo 1861. In tutte queste circostanze si votò con il suffragio universale, che però riguardava solo i maschi adulti sopra i 21 anni, le donne quindi erano escluse. L'esercizio del diritto di voto era sentito come prendere parte a un rito collettivo speciale, la celebrazione dell'identità nazionale ritrovata. «A Catania, in occasione del plebiscito per l'unità, dei sì colossali erano tracciati sui muri, sugli usci, per terra», racconta lo scrittore Federico de Roberto Neivicere, dove aggiunge che «al portone del palazzo il duca ne aveva fatto scrivere uno gigantesco, col gesso». E il domani, in città, nelle campagne, frotte di persone li portavano al cappello, stampati su cartellini di ogni grandezza e d'ogni colore. Il primo vero referendum della storia nazionale, però, è stato quello del 2 giugno 1946, quando quasi 25 milioni di italiani andarono alle urne per scegliere se il nostro paese doveva restare una monarchia o trasformarsi in una repubblica. I voti a favore di quest'ultima furono 12 milioni, pari al 54,3% dei votanti, mentre gli elettori che si espressero per la monarchia furono 10 milioni, ossia il 45,7%. Secondo alcuni studiosi, proprio per la sua eccezionalità e unicità, il voto del 2 giugno di diritto dovrebbe essere assimilato a un plebiscito piuttosto che a un normale referendum. In ogni caso, il 1 gennaio 1948 entrava in vigore l'attuale Costituzione della Repubblica, che introduceva esplicitamente l'istituto del referendum. Secondo la Costituzione, il referendum è essenzialmente abrogativo, cioè serve a cancellare una legge che è già stata approvata dal Parlamento. Per questo chi vota sì dichiara di essere contro la legge in esame, mentre chi vota no desidera che sia mantenuta. Quasi tutti i referendum che si sono tenuti dal 1946 a oggi sono di tipo abrogativo. La Costituzione italiana del 1948 non ammette infatti referendum propositivi, tali cioè da introdurre in modo autonomo una nuova legge dello Stato italiano. La validità del referendum abrogativo dipende dal quorum, ossia dalla percentuale dei votanti. Per essere valida, cioè, la consultazione referendaria deve vedere la partecipazione del 50% più uno degli aumenti diritto. Alcune leggi sono sottratte alla possibilità di essere sottoposte al referendum. Le leggi di bilancio, per esempio la legge di stabilità o quelle sulle tasse. Le amnistie e gli indulti. I trattati internazionali. Tuttavia, dal 1970 esiste anche il referendum costituzionale o confermativo. Fino a quel momento, infatti, non c'era una legge che ne stabilisse le modalità. Con questo tipo di consultazione, il popolo viene chiamato a decidere se confermare o meno una legge di riforma costituzionale già approvata dal Parlamento, ma senza la maggioranza qualificata dei due terzi. È questo il caso del referendum del 4 dicembre 2016 sulla riforma costituzionale approvata dal Parlamento il 12 aprile 2016, reso necessario dal fatto che la riforma è stata approvata con meno di due terzi dei votanti di ciascun ramo del Parlamento. Nell'antica Roma, la parola plebiscito, letteralmente ordine della plebe, cioè del popolo, indicava qualsiasi legge votata dalla plebe su proposta dei tribuni. Inizialmente valeva solo per questa classe sociale, ma dopo la Lex Hortensia del 286 a.C., la sua validità venne estesa a tutta la popolazione romana. La piccola Repubblica Helvetica ha una forte tradizione di autogoverno e quindi si fa frequente uso del referendum, che può essere lanciato pure da un semplice cittadino, anche residente all'estero, e per il quale occorre raccogliere solo 50.000 firme. Dal 1975 a oggi, il popolo svizzero ha votato 537 volte, accettando 257 leggi e rifiutandone 280. Il referendum abrogativo in Italia è regolato dall'articolo 75, che recita così. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati. La proposta soggetta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina alla modalità di attuazione del referendum. Grazie a tutti.